Un contributo per il mutuo prima casa e uno per l'e-learning di sostegno allo studio, ad esempio per l'acquisto di computer o tablet. Per le famiglie in difficoltà legate all'epidemia di coronavirus è stato pubblicato oggi sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia l'avviso del bando per accedervi. A partire dal 4 maggio le famiglie lombarde potranno tramite l'applicativo Bandi Online sul sito bandi.servizi.zirl.it essere assegnatari degli interventi straordinari stabiliti dalla delibera dell'Aggiunta regionale che prevede la concessione di due tipologie di contributi non accumulabili tra loro, un contributo appunto per il mutuo prima casa e uno per l'e-learning. Le domande potranno essere presentate dalle 12 del 4 maggio alle 12 dell'11 maggio attraverso speed, cns o registrazione con nome utente e password. Nel primo caso si tratta di un contributo straordinario, una tanto, un pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni. L'agevolazione è concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione, insieme alla domanda di contributo, della quietanza di pagamento di una rata del mutuo relativa all'anno 2020. Nel secondo caso l'agevolazione è concessa fino a 500 euro, sempre a fondo perduto, per ogni nucleo familiare con un figlio di età compresa tra i 6 e i 16 anni e prevede la trasmissione, insieme alla domanda, anche della fattura o ricevuta fiscale da cui si attesti la tipologia di bene acquistato. I destinatari della misura sono i nuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti, sia residente in Lombardia e a seguito dell'emergenza Covid-19, si trovi in una delle seguenti condizioni lavoratore dipendente con riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%, libero professionista o autonomo con riduzione del proprio fatturato superiore al 33% in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle disposizioni per il contenimento del coronavirus oppure per morte di un componente del nucleo familiare. Deve essere comunque presente un'ISE minore o uguale a 30.000 euro.